SALUSA 21 MARZO 2012 Non c'è dubbio che negli ultimi tempi siete diventati molto più consapevoli della nostra presenza. Noi e i nostri velivoli suscitiamo molto interesse, in parte dovuto alla frequenza degli avvistamenti nei vostri cieli. A prescindere dalla disinformazione deliberata, non c'è mai stato alcun rapporto concernente la Federazione Galattica, che riferisca di atti ostili da parte nostra senza motivo. Persino in tali circostanze, noi non provochiamo mai decessi e, nei casi in cui siamo costretti a prendere misure preventive, gli occupanti dei vostri velivoli sono rimossi, prima della distruzione del mezzo in questione. Spesso siamo obbligati a tali misure quando sono ignorati gli ordini, che impartiamo soltanto quando siamo autorizzati a intervenire. Nella maggior parte dei casi questo succede quando stanno per essere usate armi nucleari, perché tutti i vostri governanti sono stati avvertiti che questo non è loro consentito. Credeteci, carissimi, alcuni dei vostri comandi militari hanno tuttora l'intenzione di usarle per iniziare un'altra guerra. Noi difendiamo il percorso verso l'Ascensione non spetta a noi salvarvi, bensì garantire che abbiate sempre l'opportunità di imboccarlo. Di fatto, né voi Madre Terra sareste qui oggi se non fosse per i nostri interventi. Dio si è pronunziato in merito, e noi stiamo applicando la sua decisione, che il presente ciclo si concluda con l'Ascensione. La Terra è il gioiello della Corona, da tempo ambito da altre civiltà. Ci sono stati molti tentativi di impadronirsene da noi bloccati, ma la principale minaccia alla vostra esistenza è venuta da voi stessi. Molto presto saprete tutto sulla vostra storia, con tutti i dettagli riguardanti i tempi recenti. Avete combattuto una battaglia senza neanche realizzare contro cosa stavate lottando, perché in gran parte si è svolta a livelli superiori. In realtà, si è trattato del conflitto tra la luce e le tenebre, che voi avete superato solo di recente. Siete stati tanto vicini alla sconfitta, che è un risultato eccezionale essere riusciti a superare le tenebre. Ora resta solo da tagliare nettamente ogni legame, cacciare gli oscuri e metterli laddove non rappresentino più un pericolo per voi? Al momento, molto dipende dai cambiamenti governativi in atto. Naturalmente, ci sarà opposizione, ma per coloro il cui destino è già scritto, non ci sarà scampo, noi conosciamo la verità e, ancor più importante, i motivi che hanno determinato le loro azioni. In alcuni settori la corruzione e la disonestà sono rampanti, ma tutto ciò cambierà non appena potremo installare i nuovi governi. Soltanto allora ci saranno dei veri festeggiamenti e la pace sarà rapidamente dichiarata nel mondo intero. D'un sol colpo, i vostri piedi saranno saldamente avviati sul sentiero dell'ascensione e il vostro futuro non più minacciato. Attendete il momento opportuno mentre procede la pulizia, e siate certi che nessun ritardo o interferenza sarà consentito nelle nostre relazioni con voi. Le vostre necessità saranno soddisfatte, inclusi dei metodi di guarigione generalmente nuovi per voi, che non richiedono né medicine né strumenti chirurgici. Sarà il momento di entrare risolutamente nel XXI secolo con tutte le sue tecnologie e l'impossibile diventerà possibile, e rapidità ed efficienza sono le nostre parole d'ordine. È vero, che il tempo sta accelerando, ma noi possiamo adeguarci a quanto a noi richiesto, e la portata delle nostre risorse è tale da garantire che tutto sia completato conformemente alle vostre richieste. Abbiamo udito i vostri appelli e conosciamo la vostra angoscia mentre la pazienza diminuisce ma, come spesso ripetuto, ne sarà valsa la pena? C'è moltissimo da guadagnare in futuro molto di più di quanto la maggior parte della gente sia in grado di comprendere o immaginare. In cima alla nostra lista ci sono il vostro benessere e felicità, e questo include anche debellare la povertà e la fame. Ci sarà una risposta a ogni problema oggi esistente e, in tempi relativamente brevi, tutto sarà risolto. Terremo conto della vostra volontà di partecipare, sappiamo dove trovarvi e moltissimi di voi saranno chiamati a collaborare. Alcuni corsi di preparazione saranno in precedenza svolti sulle nostre astronavi, ma non vi occorrerà molto a riguardo, perché siete molto adattabili e desiderosi di imparare. Limitatevi a continuare la routine quotidiana, tenendo sott'occhio quanto succede attorno a voi, da cui imparare la verità su ciò che sta avvenendo. Non passerà molto tempo prima che i media non avranno altra scelta se non riferire sugli eventi importanti. Sparirà la tattica di deliberatamente nascondere o alterare i fatti e si ritornerà alla vera tradizione della libertà di stampa. Tutte o quasi le grandi organizzazioni sono riuscite a mostrarvi di loro solo quanto serve a mantenervi sotto controllo e, purtroppo, questo avviene anche per le religioni. Gran parte delle religioni si fonda su basi distorte e fatti avviluppati in vere e proprie falsità. Come qualsiasi altra cosa, anche esse saranno impurate fin quando solo la verità rimarrà, e se una di esse desidera sopravvivere sotto una qualsiasi forma, dovrà riconoscere la verità e rispettarla. Come state cominciando a capire, i cambiamenti saranno di tale portata che cesserete di vivere la menzogna che fu fatta passare come verità. Sicuramente, vi è spesso capitato di pensare che debba esserci qualcosa di meglio dell'esistenza che avete vissuto e che la vita abbia altro scopo della vuota routine che vi tiene legati ai dettami degli illuminati. Il solo fatto che ora siete aiutati a sollevare il velo che finora vi è impedito di vedere la verità, dovrebbe incoraggiarvi a camminare a testa alta e a reclamare la libertà che vi fu negata. Ogni anima è individualmente amata, a prescindere dal ruolo che al presente sta interpretando, e tutti hanno pari opportunità di avviarsi verso l'ascensione. In questo, potete aiutarvi a vicenda, sostenendo chi sta per svegliarsi ed è talvolta confuso da quel che comprende infatti, è davvero uno shock scoprire di essere stati deliberatamente ingannati sul vero scopo della vita. Non dobbiamo neanche dimenticare le creature della Terra, perché con le trasformazioni terrestri, molte specie saranno a rischio. Spesso l'uomo non si è mostrato compassionevole verso di loro, pur essendo anche esse qui per evolvere. Gli animali domestici di solito sono trattati bene, ma anche quelli che chiamate selvaggi hanno bisogno di gentilezza e amore. Alcune anime si dedicano a loro, ma nel prossimo futuro sarà necessario maggiore aiuto. Io sono il Siriano Sallusa e vi posso assicurare che anche nel nostro pianeta ci sono animali, e che abbiamo con loro una relazione di reciproco amore e rispetto. Grazie, Sallusa. My Queen 6 Traduzione Costanza 2003